Ripiegare la carta su se stessa e fermarla con del bioadesivo Disegnare il fiocco sui pacchettini con la penna gel Inserire la neve finta, le palline in polistirolo e i glitter Inserire i pacchettini Creare altri pacchettini ritagliando e incollando delle strisce di carta Con il nastro creare un piccolo fiocco sui nuovi pacchettini Inserire i nuovi pacchettini nella pallina Chiudere la pallina Ecco il risultato Spero che questo piccolo tutorial ti sia piaciuto Se hai domande o suggerimenti lascia tutto in un commento Al prossimo video Ciao Ciao